Non siamo tutti uguali e ognuno ha le proprie esigenze. E allora perché non poter scegliere? La gamma dei conti correnti differenti della Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese sono fatti apposta per te. Scoprili subito e scegli quello più adatto ai tuoi gusti. Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese. Presenti nel tuo futuro dal 1904.